Buongiorno ragazzi, oggi abbiamo la pistola di NERF Spariamo i dinosauri Apriamolo Guardate ragazzi Dai adesso scazziamolo e spariamo i dinosauri I dinosauri cattivi Spariamolo Spariamo No Spariamo i raro questo proposito Guardate Spariamo bravo non c'è non c'è potete ne va fai così opri così shhh 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 e c'è morso e si si se c'è morso People Eccid möj ma c'cellenti ma se non è mosso non ci spero a giù le ho scarate in bocca ragazzi le ho scarate nei denti le ho scarate in bocca ragazzi Hagrid Un dinosauro abbiamo creato un dinosauro abbiamo creato questo dinosauro ecco ragazzi Sì, c'è già una domanda di un nuovo gioco perché ho sbagliato tutti i miei vloggi C'è già una domanda di un nuovo gioco allora non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e lasciate un pollicione ciao attivate la campanella ciao ciao ciao